Questa settimana notiamo una tendenza all'aumento dei casi di Covid-19 nel nostro paese e l'incidenza si fissa 504 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT è decisamente in crescita, 1,07, quindi torna di nuovo al di sopra dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 7,9% e al 2,2%, quindi anche qua si nota una tendenza ad una lieve risalita anche se siamo ben al di sotto della soglia critica. Data l'elevata velocità di circolazione virale è bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione utilizzando mascherine, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone e allo stesso tempo proteggere le persone più fragili e più anziane con un'ulteriore dose booster.